Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio E' un pazzo ragazzi, è un folle, è un folle Nel senso buono del termine concedetelo, ma è un pazzo E questo veramente continua a rifiutare 8 milioni dal Napoli E' fuori, è fuori come un balcone, sta fuori come un balcone Sempre ovviamente prendiamo queste notizie con le pinze Perché poi ognuno dice la sua Ma che il Napoli sia interessato al giocatore E' risaputo che l'offerta ci sia stata anche Non sappiamo veramente i dettagli Ma si parla di 8 milioni Se questo rifiuta, se veramente sta rifiutando 8 milioni E a capoccia non gli funziona Perché preferisce starsene in tribuna O come dicono aspettare la Juventus Quando sappiamo bene che l'Inter alla Juve Mauro non glielo regala E questo sbarella Cioè sbarella ma sbarella di brutto Ma sbarella di brutto E veniamo al nocciolo della questione Non credete al fatto No ma tranquilli perché lui sta facendo tutto questo Perché poi si libera a 0 Lo perdiamo a 0 L'Inter rimane così come Cazzate E basta con queste notizie Cazzate, 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 cazzate L'Inter si è tutelata Alla grandissima Alla grandissima Si è tutelata a dovere ragazzi miei Ci facciamo prendere in giro da Mauro Riccardo Non scherziamo Alla grandissima Perché innanzitutto l'ha portato in ritiro L'ha portato in ritiro L'ha messo in gruppo Quindi non è che sta fuori No, lui è in gruppo L'ha portato in ritiro Adesso per esempio ieri Ha svolto anche la partitella Addirittura gli hanno fatto fare anche la partitella Al ragazzino così sta contento Gioca col pallone Gioca con gli amici A scuola Gli ha fatto fare anche la partitella Quindi l'Inter sta a posto Sta a posto L'unica cosa deve impiegarlo Nel 10% Per almeno il 10% delle gare A cui sarà chiamato in causa l'Inter Magari no Ci sono 50 L'Inter quest'anno svolgerà 50 partite Su 50 partite deve giocarne almeno Quindi 5 5 partite E non è che deve partire per forza il titolare No Anche degli spezzoni di gara E stiamo a posto Quindi basta che lo facciamo giocare un pochettino In Coppa Italia O nelle ultime partite di campionato E stiamo a posto Cioè Ste cavolate che lì Che Icardi si riuscirà a liberare a zero Farà a causa l'Inter per Ma Cazzate 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 Detta così sono anche me Quindi Tranquillo Ecco perché dico Ma questo qua Ma veramente preferisce Ma veramente preferisce stare in tribuna E non andarsi a giocare Un campionato da protagonista Con una squadra forte Con una squadra che Sulla carta se vai a vedere Per quel che mi riguarda È più forte dell'Inter Il Napoli Una squadra che È Negli ultimi anni È stata sempre L'anti-Juve L'anti-Juve È la Juventus Stesso Parliamoci chiaro Questo sì Ma è l'unica squadra Il Napoli è stata l'unica squadra Che comunque è andata vicina Per esempio con Sarri Anche alla conquista del titolo Non dimentichiamocelo Poi la partita Inter-Juve Finita come finita Altrimenti se la giocavano Alla grande Quindi Cioè Non è che sta Va a 8 milioni Per andare a giocare In una squadra sperduta Che non può giocare Non può competere No Gioca con Ancelotti Gioca con il Napoli Che è in Champions Veramente Che è stata La squadra L'abbiamo detto poc'anzi Una squadra Competitiva Ma tu sei fuori Come un balcone Se preferisci stare in tribuna Ma stai fuori Come un balcone No È strano Ma l'abbiamo detto C'è gente che ripensa E pensa E crede Che questo qua rimane E l'Inter Lo fa giocare Cioè L'Inter Non gioca L'Inter Non giocherà più Perché l'Inter Ha fatto delle scelte Lo ripeteremo all'infinito Allo sfinimento Ma l'Inter Questo qua Se rimane Non gioca Non gioca Se non quelle Ripeto Quelle cinque partitelle Quelle cinque partitelle Giocherà qualche spezzone È a posto È a posto Quindi che cavolo Ci rimane a fare In una squadra Che non lo vuole nessuno Non lo caga Ormai Il bello è che poi Non lo cagherà Neanche più nessuno Perché se l'Inter Continua così Che ottiene buoni risultati Poi parla Poi i giornalisti Detestate Noi youtubers Ci interessiamo Perché ormai bisogna metterci Anche noi youtubers Ma non io Che io conto una mazza Ma diciamo che Quelli che hanno Dei numeri importanti Poi contano Se non ne parla più Nessuno Poi finisce nel dimenticatoio Poi finisce nel dimenticatoio Perciò ma dico Adesso Ma vuole un po' rinsavire Cioè vuole rinsavire Siamo al 29 Ma vatti Ma vatti a fare la vita tua Ti fai la vita tua Te ne vedi una scuola Come la Ma ti diverti Giochi il pallone Preferisci stare in tribuna Ma come cavolo Questo con la testa Veramente Se sei ingriccato Se sei ingriccato di brutto È chiaro Perché Boh Non lo so È pazzesco Perché poi dicono No ma questo per i soldi Tanto che se ne frega No ma Al Napoli Se va al Napoli Prende di più Gioca a calcio Cioè la sua carriera Può comunque Ancora esplodere Perché no E invece preferisce Stare in tribuna Cioè ma Rifletteteci un po' Ma perché Bisogna rifletterci Attentamente Su sta cosa Cioè Rifiuta A meno che Ripeto Siano tutte cazzate Sport Mediaset Corriere dello Sport Corriere della Serie Cazzetta Siano tutte cazzate Inventate Di sana pianta Ma non credo Anche Sky Sport Lo dice Gianluca Di Marzo C'è il Napoli Che lo attende E quindi È pazzesco È inaudito Pare che fino a domani Napoli ci creda ancora Per portarlo a casa Poi Si chiamerà fuori Questo è Quanto trapelato Vedremo un pochettino Io ad oggi Devo Ma questo qua Sta fuori come un balcone Se devo fare Un riassunto I cardi Fuori come un balcone Con tutto il bene Con tutto il rispetto Si gioca Si scherza Ovviamente Si esagera anche Un pochettino Però veramente È una scelta Che Faccio fatica Proprio Proprio A metabolizzarle È una scelta Che faccio fatica Perché Ripeto Vai in una squadra Competitiva In una squadra Ti offre un contratto Incredibile Ti giochi la Champions Gioca in una squadra forte Gioca in una squadra forte Gioca la Champions Puoi ripartire E poi sappiamo Che comunque La tifoseria del Napoli È un pubblico Caldissimo Quindi anche lì Troverebbe Tanto tanto amore Io non capisco Perché Boh Non lo so Veramente una cosa pazzesca Vabbè Questo è il mio pensiero Fatemi sapere Cosa ne pensate voi Vi invito a commentare A likeare A scrivere al canale A dindindind Attivate la campanella Attivate la campanella E io vi saluto Vado Mi metto già in circolo Perché fra poco Ci sono i sorteggi E io Sto lì Trepidante Aspettando Un grande abbraccio Daneschi